Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di entrare nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. Senza dichiarazioni ufficiali si mormora che la principessa del Galles stia affrontando un periodo di recupero non facile, dopo essere stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico all'addome. Questa fase di ritiro dal mondo esterno, necessaria ma forzata, ha portato con sé preoccupazioni significative, incidendo visibilmente sul benessere emotivo di William, visibilmente scosso dall'assenza della sua dolce metà. Secondo quanto spiegato dalla dottoressa Deborah Lee, il postoperatorio di un intervento all'addome può nascondere insidie non trascurabili, spingendo così Kate a privilegiare la riservatezza. Tra i vari rischi, si contano possibili abbassamenti bruschi della pressione, rischi di emorragie non esterne, la necessità di attenzioni costanti per la cura della ferita al fine di scongiurare infezioni, senza dimenticare il pericolo di complicazioni come trombosi ed embolie polmonari. Il quadro si complica ulteriormente considerando la possibile diminuzione delle difese immunitarie del paziente, che apre le porte a polmoniti, infezioni varie, tra cui quelle del tratto urinario, e reazioni avverse all'anestesia. Vista la complessità di questi potenziali sviluppi, è stata adottata una serie di precauzioni per tutelare al meglio la salute di Kate, affinché il suo recupero possa essere il più sereno e rapido possibile.